C'è un po' che fa, è piacente. 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 C'è un po' che fa. C'è un po' che fa, è piacente. C'è un po' che fa, è piacente. Leif al quinto garardo, l'Auca, l'an passé, Toute la pubicité du communiqué, C'était le chant qu'il n'ont composé pour la paix. Je ne veux pas chanter ici parce que nous n'� , Nous sommes pas confrontés. Mais il a et lui foram cès. Ce qui il trouvera était, avoir, Celui dans quotidien, Mais ces chanzèles. C'est d'ан其实 che dúcnique. Quindi vorremmo a la sortire della messe, vorremmo. C'è mio padre che va conoscere il libro familiare. Il n'a mai avuto il libro di più di marcher, c'è il libro di la maison, n'est-ce pas? Io non ero qui, perché ho rispato di dire il suo cuore, cosa mi aveva detto. Quindi io gli ho detto grazie, e con una sorta di stanza, Johan viene, e viene. Lui c'è Johan, son nomonyme, e che l'imite già viene, n'est-ce pas? Lui, il è son grand-pè, e il è mon vieux aussi. E lui, il toucha già, e il chante già, e il chante già, e quando le cose sorti, e io lo vedo in una video, anche perché lui gioca già nel Rio Cameroone. E lui, questo è mio frate. Il è tagliato, ma è tagliato, perché a faiciato, ma è tagliato, ma è tagliato. Ma è tagliato, e il è il è il è il è, il è 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 il mio frate. Noi sono tutti i bambini di papà Jean-Marie, quindi hanno chiesto venire vederlo con noi per inaugurare la famiglia di Douala. Il è venuto da Douala per che noi vettiamo parci qui. Quindi noi gli diciamo benvenuti, benvenuti, benvenuti e benvenuti. Non, ma non sono tutti i bambini. E come voi voi... Non, non vi faccio il nostro canale del 1000 Dami. Il è venuto da tutti i Bambini, perché ha detto che ciò vanno spedza dopo dopo tutto il giorno e ciò vanno urre. grazie a tutti 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 grazie a tutti